Si è tenuta questa mattina all'intitolazione del largo di via Generale Gonzaga situato nei pressi del seminario alla memoria di padre Michele Madussi, primo parroco stimmatino della città di Battipaglia dal 1941 al 1946. L'evento insieme alla messa e al convegno dal titolo Stimmatini a Battipaglia, custodi della speranza, chiude le celebrazioni per l'ottantesimo anniversario dell'arrivo dei padri stimmatini della comunità battipagliese, cominciate giovedì scorso. Grazie infinite, continuiamo a camminare insieme.